Che cosa sta accadendo nel Pavese? Sta accadendo l'ennesimo scempio e l'ennesima violenza nei confronti di un territorio che è sempre stato un territorio accogliente, è sempre stato un bel territorio ed è sempre stato un territorio di turismo e soprattutto di enogastronomia. E quindi cosa succede? Che l'Italia, lo Stato italiano, il Ministro degli Interni ha deciso di scegliere un agriturismo all'interno dell'oltrepo Pavese, un noto agriturismo per posizionare un'ottantina di immigrati clandestini. Ancora una volta queste persone che vengono in Italia pensando di trovare il paese del Bengodi sono arrivati all'agriturismo, sono stati lì qualche giorno e poi hanno cominciato a fare una grandissima sceneggiata bloccando l'ingresso dell'agriturismo semplicemente perché il cibo non era di loro gradimento. Premesso che il cibo dell'oltrepo è molto buono e lo segnalano tutti i turisti, le decine di migliaia di turisti che vengono inoltrepo tutti gli anni, mi fa ridere il fatto che queste persone vengano pagate dallo Stato, quindi pagate dai cittadini italiani e poi si permettono anche di fare queste sceneggiate. Sceneggiata che ha visto quindi le forze di polizia impegnate, che ha visto i proprietari dell'agriturismo in condizioni disagiate, che ha visto ancora una volta il nostro territorio andare alle cronache nazionali per un caso di questo tipo. Non lo dico da parlamentare, lo dico da cittadino della provincia di Pavia, siamo veramente stufi e di conseguenza queste persone, il signor Alfano, se vuole accoglierli, le accoglie a casa sua.